ciao a tutti e bentornati allora oggi vi propongo un ricco menù di fatti e personaggi e da qui partiamo partiamo dal nostro fiorellino milanese che sì il suo compleanno è stato qualche giorno fa ma solo ieri finalmente è stato caricato il video con tutti i suoi regali di compleanno e lo so siete eccitati all'idea ma cercate di contenervi dite non me ne frega niente volete andarvene ma non ci pensate proprio perché voi state qui e soffrite con me allora ci accoglie in questo nuovo e strabiliante video lei la leggenda vestita come una che è scappata dalla casa nella prateria ed è gasatissima per quello che da lì a poco ci andrà a mostrare bene giusto il tempo di salutare i signori ingles e prima di iniziare ci informa che in questa occasione sta indossando un rossetto by dior dice qual è un attimo si tratta del dior rouge 99 dice shine no velvet bene ora che lo sapete mettetevi l'anima in pace perché adesso andiamo con quello che è il primo articolo si tratta di un giubbotto stile biker di colore rosso nero e bianco con una scritta enorme sul davanti dice che è scritta coca cola nella taglia l è costato appena 50 baiocchi poi si tira su e ce lo mostra anche indossato bene e noi passiamo a quello che è il secondo regalo si tratta del cofanetto con tutti i dvd della serie tv twin peaks allora questo io me lo ricordo deve essere la storia di quella ragazza laura palmer che viene ritrovata morta in un sacco e poi tutta la serie si sviluppa sul capire chi è l'assassino giusto per favore ditemi che ci ho preso sono convintissima della cosa ma passiamo a quello che è il terzo regalo che è un altro cofanetto che contiene un'altra serie tv che poi altro non sarebbe che la continuazione di twin peaks però vent'anni dopo io manco lo sapevo che c'era una continuazione della storia ma che resti tra noi e torniamo a quelli che sono stati i regali fatti da davide indirizzato da lei sul sito di filomena amore dove lui le ha scelto due borse la prima si chiama lady salento che si presenta di colore nude e nella versione anti scippo mentre la seconda borsa che ha scelto davide credo si chiami lady chic e si presenta bicolore cioè bianco e nero a forma di secchiello al quale si possono aggiungere sia la tracolla che i manici roba da vip insomma con questi due acquisti ha ricevuto in omaggio un portafogli di colore rosa e una collana composta da una catenina e un pendente a forma di cuore color oro resistete siamo quasi giunti alla fine perché adesso passiamo al regalo che le ha fatto Sharon sulla scia dei cofanetti delle serie tv le ha preso quello dei soprano e da qui in poi parte tutto un lungo ed interessante monologo sulle serie tv che sta guardando ok schippiamo subito e passiamo a quello che è il prossimo articolo e di cosa si tratta? si tratta del beauty case rigido di Hello Kitty del tipo che si aggancia al trolley e adesso non so come dirvelo sono in difficoltà perché devo comunicarvi che siamo arrivati a quello che è l'ultimo regalo di tutta la lista e cioè un paio di scarpe by Nike di colore nero e azzurro questo è un altro regalo di Davide il naikofilo della famiglia bene e con questo si conclude il suo video siete tristi lo so ma non ci possiamo occupare di questo adesso perché perché dobbiamo andare a raccontare del ritorno di Marco Dito che salutiamo il quale a sorpresa ieri ha fatto una live dove ha raccontato di stare bene e ci ha aggiornato sui procedimenti legali intrapresi qualche anno fa verso una persona che l'aveva pesantemente diffamato ci dice che la controparte non si sta presentando alle udienze ma che a luglio ci sarà una svolta decisiva la quale si sta affossando con le proprie mani perché non si presenta alle udienze mediante certificato medico ma poi nel momento in cui si svolge l'udienza questa persona va in live la cosa è stata segnalata al giudice di competenza e non è stata presa molto di buon grado poi l'argomento cambia Marco ammonisce chi ha dato contro a senza anima ricordando a tutti che in questo momento è una persona che ha bisogno di tutta l'avvicinanza e l'aiuto possibile sottolineando il fatto che si tratta di un momento circoscritto e non di una consuetudine anzi dato che siamo in argomento vengo ad aggiornarvi anche sulla somma raggiunta fino a questo momento allora dalla pagina ufficiale della raccolta fondi di Francesca siamo a quota 2096 euro a fronte dei 3000 richiesti quindi direi che la cosa sta procedendo più che bene e più procede bene qui e più ci sono rappresaglie in quel di Soriano che vive con sofferenza ogni aggiornamento monetario perché alla sorianese non sta bene niente allora partendo dal fatto che senza anima tramite video ha raccontato della vicenda dello sfratto e la sorianese è intervenuta dicendo che era tutta colpa di senza anima invitandola in malo modo ad andare a lavorare sia lei che il suo figlio poi senza anima è stata ospitata da luisa una sua moderatrice ma neanche questo andava bene perché in pratica senza anima stava approfittando di luisa e allora senza anima per non essere di peso a luisa si è trasferita in albergo ma per la sorianese neanche questo è andato bene perché il fatto di trasferirsi in albergo vuol dire che allora lei i soldi ce l'ha tanto più che si è mostrata a bere uno spritz al bar dell'albergo il pernottamento in albergo sta durando più del previsto e francesca per contenere le spese sta comprando da mangiare tutto quello che le serve dai negozi adiacenti tipo anche il cibo pronto acquistato in rosticceria beh non l'avesse mai fatto vista sta cosa la sorianese si è subito precipitata in live a dire che allora senza anima dato che si compra gli spritz cibo in rosticceria vuol dire che sta truffando gli iscritti perché perché lei non ha bisogno di soldi questo ragionamento da dove nasce nasce dal fatto che lei su un ben 4 anni che non riesce a comprare roba pronta della rosticceria poi le si accende la lampadina dice apro una raccolta fondi di 100 euro che voi mi mandate e io ci compro tutta roba di rosticceria poi apro una live e mangio tutta sta roba davanti a voi ora qui un utente mi chiede ma secondo te arriveranno questi 100 euro per comprare tutta sta roba della rosticceria guarda caro utente a sto punto è possibile tutto perché quello a cui stiamo assistendo in questi giorni su youtube veramente non ha nessun senso logico ora dato che abbiamo un'altra manciata di minuti prima di andare a terminare questo mio riassuntone quotidiano volevo trattare un altro argomento mi hanno informato proprio due secondi fa del fatto che oggi è stata fatta una live proprio dalla sorianese dove ha augurato buona festa della donna dato che oggi è l'otto marzo a tutte le sue utenti e le donne in generale però nella stessa live ha detto che se un compagno marito fidanzato alza le mani una prima volta sulla sua donna dato che una prima volta è da ritenersi passabile come azione secondo me è un no secco perché punto uno un uomo che sia tale non alza mai le mani su quella che è la sua compagna punto due il rapporto deve essere paritario e in qualsiasi equilibrio concordato dalla coppia deve esserci rispetto e questo da ambo le parti noi viviamo in italia e in italia vige una struttura di tipo patriarcale per fortuna col tempo un po' le cose stanno cambiando ma finché ci sarà un uomo ma soprattutto una donna che ritiene normale prendere le botte dal proprio compagno questo rappresenta come un passo indietro per una società equa e moderna perché purtroppo questo tipo di messaggio sbagliato può andarlo ad ascoltare una donna fragile o una ragazzina che non ha ancora bene presente il bene e il male quindi assorbono dei concetti sbagliati e magari se si trovano in una situazione del genere continuano a subire questa situazione perché poi vanno a concepirla come come normalità e non a caso i fatti di cronaca raccontano di tante donne morte per mano dei loro compagni solo perché perché si sono ribellate alle loro imposizioni una delle ultime vicende che ha proprio colpito l'intera italia tutta è stata quella di giulia cecchettine che comunque ha cercato di allontanarsi da questo ragazzo violento e dittatore ed è finita con la morte quindi far passare il messaggio che se capita in una occasione circoscritta la cosa è passabile no non va bene un uomo che si ritenga tale non alza mai le mani sulla propria compagna ci deve essere rispetto da ambo le parti bene detto questo io adesso vi saluto vi auguro buona continuazione di giornata e vi do appuntamento a quello che sarà il mio prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossi